24 anni devi spingere sul lavoro, devi trovare il modo di far crescere il tuo reddito in modo importante. Come comprare casa a 24 anni? Allora, commento ad un video in cui probabilmente parlavo del fatto che è difficile per i giovani oggi riuscire a comprare casa e emanciparsi dai genitori. Luca dice, hai descritto la mia situazione, 24 anni e da tempo cerco di andare a vivere con la mia ragazza, ma in questo momento non è niente facile, non è per niente facile. Un video che descriva come muoversi in questo preciso momento storico sarebbe molto utile a me e credo anche ad altri molti giovani nella mia situazione. La situazione non è facilissima, soprattutto perché, e farò un video dedicato su questo, i costi degli immobili sono associati ai proprietari degli immobili e alle aspettative che questi hanno. Secondo me c'è un grosso problema nel settore immobiliare, in Italia, legato proprio a chi possiede gli immobili oggi, che la maggior parte degli immobili è di proprietà della generazione dei miei genitori, per capirsi. I quali preferiscono tenerli vuoti che non metterli in affitto. E quindi questo falsa i prezzi del mercato e impedisce anche che molti immobili vengano messi sul mercato ritarando i prezzi di conseguenza. Ma di questo parleremo in un video dedicato. Quello che però emerge è che appunto ci sono molte persone che oggi magari hanno redditi non elevatissimi e che alla luce di questi prezzi folli del mercato immobiliare, parliamo sia dei prezzi di acquisto che anche di affitto, fanno fatica a vivere e a crearsi un'indipendenza economica. Cosa fare? In questo momento non ci hai dato molte informazioni su di te, ma a 24 anni ovvio che hai l'obiettivo di… cioè io lavorerei su due fronti. Il primo è 24 anni devi spingere sul lavoro, devi trovare il modo di far crescere il tuo reddito in modo importante, professionalizzandoti, vendendo le tue competenze a prezzi più alti, cambiando lavoro, facendoti coinvolgere in piani di crescita da parte della tua azienda. Se la tua azienda non te li fa, cambia azienda, eccetera. Una volta fatto questo e provato a massimizzare quello che è il reddito, il tema è se non puoi permetterti nella zona di andare ad abitare da solo, nella zona in cui sei, trova un'altra zona. O trova una configurazione che ti permetta di riuscire a renderti autonomo e indipendente. Non è facile, però troppo poca gente lavora sul reddito, a mio parere, e sulla professionalità. Ed è ovvio che se non si lavora su quello, poi è difficilissimo trovare qualcosa che sia adatto alle proprie esigenze, necessità e o desideri. Quindi prima la priorità è il lavoro, dopo iniziare a guardarsi intorno e cercare di trovare qualcosa adatto alle proprie necessità, unendo le forze con la propria ragazza, trovando il compromesso, magari spostandosi, eccetera. Non vedo molte alternative, se non aspettare che queste problematiche al settore immobiliare, che a mio parere è profondamente inchiodato proprio per queste ragioni demografiche di cui parleremo in un video dedicato. Bene, queste problematiche non spariscono, ok? Però magari ci vogliono 10 anni, o anche 20, ok? Quindi magari tu vorresti andare a vivere da solo prima con la tua ragazza, no? E quindi non vedo molte alternative. L'ho fatta un po' lunga, Dario, cosa mi dici? Sì, no, in realtà c'è ben poco da aggiungere, come dice Giorgio. Da una parte l'unica cosa che si può fare è cercare di lavorare su se stessi, quindi sul proprio lavoro, sulla propria professionalità, sul qualsiasi cosa, insomma, ti permetta di riuscire ad avere un reddito, non dico alto, ma comunque un reddito che ti renda sostenibile il tipo di vita che stai cercando. E dall'altra parte lavorare sul fronte, chiaramente, di rapporto con la propria compagna. Anche, più che altro, ecco, non avere fretta anche per evitare di dire di andare troppo presto fuori di casa, perché si è convinti che debba essere l'obiettivo principale della vita di una persona, andare subito, trovare subito il posto fisso e andare fuori di casa il prima possibile. In realtà questa non è affatto una priorità per la mia generazione, non lo è assolutamente, anzi, a 24 anni, cioè, se hai trovato il posto fisso è quasi un miracolo e non, insomma, probabilmente per riuscire a trovarlo hai dovuto accettare certi tipi di compromesso, quindi magari lavori molto poco pagati, insomma, adesso non conosciamo di preciso la tua situazione. Però ecco, se questa cosa comporta magari andare a prendere una casa molto più piccola del necessario e stare in un posto dove in uno si sta stretti e stare in due, e che poi porta anche tutta una serie di problemi alla relazione, insomma, molto meglio aspettare magari un annetto e concentrarsi di più sul suo lavoro. So che un anno può essere lungo e può, poi dipende sempre da com'è la tua situazione familiare in casa, cioè ci sono ovviamente mille motivazioni e mille motivi per cui questa cosa potrebbe non andare. Non vincolarti eccessivamente, stai molto attento a dare le priorità giuste, a 24 anni la priorità dovrebbe essere il lavoro, secondo me, e per quanto riguarda l'affitto, l'affitto valgono le logiche, secondo me, che dicevo prima. Magari ti sposti e vai in una zona dove costa meno. Però c'è valore, cioè io non posso dirgli stai a casa con i tuoi, no? Cioè lui vuole uscire, deve uscire, no? Se ci sono le condizioni per farlo, deve uscire. Se gli manca un anno di università, è molto meglio che finisce il suo anno di università ed esce dopo. Perfetto. Metti a posto il lavoro, eventualmente spostati in zone in cui costa meno l'affitto. Grazie a tutti.